Musica Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questa nuova puntata della Ulysse Craft Allora oggi andremo a lavorare fuori dal nostro super market Spero che avete visto l'episodio del 18 perchè è importantissimo Abbiamo lavorato una cosa fantastica Ovvero la ricezione automatica del sushi Quindi noi ordiniamo il sushi e lui arriva in automatico Yeah bello Poi in questo caso lo faremo anche con i villager O comunque in questo caso useremo il custom pc Ma per oggi andremo a lavorare Allora cosa che abbiamo lasciato Abbiamo lasciato Tralasciato in questo caso Da un po' di tempo Ovvero la meccanismo Ok ricordate qui abbiamo un sacco di minerali Ma porca ma con di minerali ci sono Un problema è questo ragazzi Non arriva abbastanza sale Xander mi ha fatto notare una cosa abbastanza interessante Che da poco La meccanismo ha aggiunto Un crafting abbastanza carino e utile Ovvero Sapete che si può creare il sale Della pam ok Il sale della pam si fa in questo modo Si fa salt Questo qui ragazzi Questo salt Si crafta in questo modo Molto easy Pot E un fresh water Quindi una stronzata Una cosa facilissima Quindi cosa faremo Per poter fare le cose belle Andremo A fare un impianto abbastanza easy E utile Per poter avere indietro Tutta la nostra roba Ora Lo faremo probabilmente qua vicino Perché in effetti Ci abbiamo giusto Il necessario qua vicino Ci servirà Ci servirà un paio di oggettini Allora non so se abbiamo un retriever Perché in effetti No non abbiamo Perché non abbiamo La project blue Quindi nada Potremmo quindi Farci In questo caso Un autonomous Ok Creatiamoci un autonomous Quindi giustamente Non abbiamo una chest E come fa Ulisse A sapere che non ha una chest Perché Ulisse Non ha mai le chest Quindi sono sicuro Del fatto che non abbiamo le chest Perché l'ho usata Nel scorso episodio Ecco perché ragazzi Ok Quindi facciamo un paio di chest Molto utili Molto belle E Nel prossimo episodio Inviterò una persona Abbastanza speciale Che mi aiuterà Per un paio di cosette Interessanti Infatti Voglio capire Se è possibile Fare una cosa Figa Tipo Guarda sto pensando Dei coin Utilizzando La Utilizzando La computer craft Cosa Che potassi si può fare Quindi vedremo Mi serviranno dei bucket Ok Mi serviranno 8 Dovrebbero essere già sufficienti Perfetto E Mi servirà Un export Che andiamo a cartare subito Perfetto Eccolo qua Export Mi serviranno dei cable Ma quali ce li abbiamo A buttare Euromio Ottimo Una pot Che abbiamo subito Qua Pot Ok Ah non abbiamo il pot Merda Non abbiamo una pot Ragazzi Ce la craftiamo subito Nessun problema Why not E' una stronzata Craftarla sinceramente Perfetto Una pot E mi servirà Un Potremmo farci Facciamo la cosa Che non ho fatto ancora vedere Ovvero una Workbench Automatic workbench Automatic workbench No Crafting Crafting Vediamo un po' Ci riusciamo a trovare Crafting table Crafting table Tutto a posto E beh Stiamo direttamente Buildcraft Che intanto La buildcraft Non l'abbiamo manco toccata C'è proprio per nulla Buildcraft Ok Ci facciamo Una auto Buildcraft Ok In questo modo Anche se in realtà Non voglio farlo No non voglio farlo Ragazzi No Facciamo stare Non mi piace Andiamo Per una cosa un po' Più carina E più bella Ovvero Andiamoci A fare Ehm Bella domanda Cosa potremmo fare Per fare questa cosa Il crafter Ah facciamo un crafter Anzi Già dovevo recuperarlo Il crafting Perché dovrei averlo Dovrei avere qui dentro La nostra bella range Che c'è in tammer Andiamo a fotere Un crafter Da qui Che infatti A me non serve più Perché Qui in sostanza Non serve Ok Perfetto Qua ancora i vecchi cavi Detto guarda Lardner Il crafter Perfetto Ok E la andiamo A posizionare Da questa parte Vabbè di tutto Ah prendiamo Il nostro autonomous I cavi dovrebbero arrivare Fin qui Sono i cavi lì Quindi quasi quasi Lo facciamo In questo modo Buttiamo sta roba Che non ci serve più ormai Non è utile Ah qui non ha fatto manco uno Ne scommettete Scommettete Guardate Bam Set e sec to play Ragazzi Sto facendo un Un sec to play Sto facendo sex to play Deve fare il sec to play Quindi tanta roba Ok A parte questo Qui mi servirà Un tasto destro Ehm Configuration Allora Qua tasto destro Red click Giusto perché con un sec Prendiamo un right click Ottimo Ehm Mi servirà anche un riciclo Di roba Quindi in questo caso Devo farmi un crafter Qui per esempio Ok Leviamo sta roba Ok E diciamo che uno di questo Più Ehm Uno di questo Pieno però in questo caso Di acqua Ok Mi darà Del sale Perfetto Quindi in automatico Voglio che faccia uscire anche la roba Quindi adesso da qua Da questo lato Facciamo Pull Push Ehm Allora facciamo così Facciamo che da questo lato Fa il pull Ok Quindi di qua Giusto Perfetto Mentre dal lato lato Faccio uscire I push Ok Quindi push Perfetto Però dovrebbe essere Push e pull Ehm No facciamo push Ok push Perfetto Va benissimo Cosa Buffering Item stack Va bene Va bene Item stack Va benissimo Quindi questo è sale Ora noi ci mettiamo sempre questo A random Perfetto E in tanto far rilevare il bucket Per esempio un bucket Arriva Sale Dove finì Aspetta Dov'è il mio secchio d'acqua Eccolo Vedete il secchio d'acqua va a finire Qui nel buffer Quindi poi verrà Fatto uscire Da qualche parte Ok Quindi dovrò anche sistemare questa roba Da questo lato Ho fatto uscire però Yep Ok Quindi mi servirà Prima di tutto Dei item duct O degli item Conduit In questo caso Item conduit Va benissimo Ok Item conduit E un Ehm Un filtro Ok ce l'abbiamo un filtro Yeah Ce l'abbiamo un filtro Facciamo anche dal lato destro Ok Push E gli facciamo pushare la roba E arrivare qui Ok Vai Perfetto Aspettate che ho sbagliato Vabbè lo rompiamo Ok Qui facciamo andare dal lato Il Blu Quindi entrare Perfetto Li diciamo Insert Ottimo E di qui invece Extract Ok Senza nulla E ci deve estrarre Soltanto una tipologia di roba Non questa roba Ma un secchio vuoto Che non abbiamo già dentro Adesso L'ha già messo dentro Sì l'ha già messo dentro Perfetto Secchio d'acqua Nice Mettiamo uno di questo Molto figo E adesso dobbiamo fare Arrivare i cavi da questa parte Ora potrei farlo vedere tutto Da sottoterra Ma Non so quanta voglia abbia Sì dai Facciamo arrivare la sottoterra In verità a me serve un import Non un export Mi sono dimenticato di sta cosa Vabbè dettagli Non preoccuparti Ulisse sbagli ogni tanto Però Sei in hub Sei in hub Ulisse Sei in hub Allora Giustamente non ho flux Non è che Non è che abbiamo già tutto pronto Non abbiamo mai nulla pronto Giustamente qualcuno dice Eh Ulisse Non fai mai le cose giuste È giusto Non so che devo fare le cose Big e enormi Però non ho voglia Semplicemente Non preoccuparti Allora Passo uno di questo Va benissimo Oddio abbiamo finito anche i pistoni Abbiamo finito i pistoni Vabbè Ok Ho fatto Passare quasi tutto da sotto Quindi yeah Ci può stare State Mettiamo un attimo i cavi Cavi Andiamo a inserirli qui Perfetto Ciao pollo Allora metto Uccidi tutti i polli Che magari laghi meno Non è in realtà In realtà Producono davvero pochi polli Loro Sono pochi Pochissime identità Quindi non è un problema Poi lo dei polli Anzi Penso c'è un problema minore Poi lo dei polli In futuro Troveremo altri Vari cosi Che ci daranno problemi Perfetto Uno di questo Import Yep E sale Giusto Yep Sale Perfetto Questo è questo Dovrebbe funzionare abbastanza velocemente Dovrebbe produrre anche un bel po' Sinceramente Ok Ora dovrò uscire però Merda Merda Ok Qui posso uscire Perfetto Tranquillamente Chiudiamo Chiudiamo tutto Perfetto Allora A parte il fatto che devo controllare se funziona Tutto a posto Yeah Dovrebbe essere giusto Penso di sì Ok Qui ho detto che voglio far uscire soltanto i secchi Però yep Ok Allora adesso devo tanto farli entrare in questo modo Quindi Così Ottimo Anche se In verità No in verità Devo lasciare forza così Devo lasciare Qui facciamo extra brown Insert brown Ok davanti era l'entrata Verrò giusto Ok E mi servirà soltanto dell'energia adesso Quindi dei conduit Bellissimi conduit di energia Due ne ho Oh merda A questo punto Visto che comunque voglio fare una cosa abbastanza easy adesso Giusto per vedere se funziona Mettiamoci questi conduit di energia qui Ok Con addirittura la nostra cella Avanzante Dai vari crafting Ok vedete inizia a scendere Ok Vedete prendi i secchi d'acqua Li sta prendendo Li sta buttando fuori Li sta rimettendo Sta producendo il sale Ora faccio vedere il sale quanto ne produce Guardate qua il sale 1120 1120 1120 1120 1120 Non li produce Oh 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 questo è l'ingresso Vero Ah insert Ops Ho bagliato ragazzi Scusatemi Ho bagliato io Brown Ok Salt Ok 1122 1123 1124 125 E via dicendo Insomma E questa cosa sarà utile Perché in futuro Faremo delle cose Relativamente utili Con questo salt Ora potremmo farlo anche adesso Sinceramente Questo è un crafting automatico di sale Cioè è una facilità assurda ragazzi da fare E Allora Visto che ci sono Lo faccio anche in questo macchinario C'è un macchinario che permette di Cambiare il salt In Prime Ok Quindi la cosa importante C'è quella Fin a noi si resta quello Si fa infatti in questo modo Con un chemical oxidizer Che dovrei averlo già fatto Tipo da qualche parte Comunque lo rifacciamo Chemical Washer No a me serve il chemical oxidizer Chemical oxidizer Perfetto In questo modo di craft Abbiamo tutto necessario Mi manca solamente un gas Tank Perfetto E Un electric chest Merda Electric chest Un po' più complicata Ma ce l'abbiamo Facciamo neanche due Sinceramente Va Tutto facciamo anche due gas Va Forse ce la facciamo Forse ce la vado a farne due Vediamo un po' se Ulisse Ha tutto necessario Ah chest è vero Qui le chest non le prende Ok Bam Perfetto Tutti questi Li abbiamo fatti E Ci serve un export Due export Un altro export Ci sta tantissimo Oddio No Perché Non lo sapevo Lo sapevo io Che ogni volta Mi manca qualcosa Ah Ah Mi odio Un odio per me Absolutely Proprio gigantesco Export Ok Altro export E quindi Li faremo uscire La roba Da questo lato Ora potremmo farlo uscire Anche a stack Però sinceramente Non ci interessano Siamo ancora in bat mode Perché in effetti In bat mode È molto utile Per questo tipo Di cose Ok Ah Giusto Devo farlo così Devo farlo tipo Uno e due Ok Perché dovrebbe uscire A questo lato Spero che sia giusto Così In ogni caso E l'entrata Probabilmente Dall'altra parte Non lo so Ah si Dall'altra parte Quindi devo fare così Uno E due Mi piace volare Suona Perché suona E fischi e canta Come 1240 Insomma Ok E dovrei Farcela sinceramente Con i nostri Piccoli cosi Allora Prima di avere abbastanza Channel Perché in effetti Mi ero Ricordato Il fatto che I channel Non è che Siano tantissimi Sinceramente Abbiamo del sale Ce l'abbiamo Guardate quanto ne ha fatto Ho fatto già 70 Ne ha fatto Ok Siamo per essere a posto Export bus Export bus Ah 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 Channel finiti Ragazzi Missing channel Ok Devo farmi Un'altra cosa Vabbè lo faremo Arrivò qui almeno No Non va bene Quindi al contrario Devo farlo Vediamo un po' Oh Fammi entrare Ah ok Giusto Perfetto Va L'energia sta finendo No l'energia c'è Dove arriva l'energia Non lo so Bella domanda E mi sto facendo Cassius Prime Vedete mi fa 15 E pochissimo Però sinceramente È gratis Quindi Perché no Ok Ho bisogno di un canale Ho bisogno di vari canali Da fare E lo faremo Perché in effetti Abbiamo tutto full Quindi Per il momento Io vi saluto ragazzi Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Da Ulisse È tutto Ciao ciao